E' durato circa un'ora l'incontro del Premier Draghi sul fisco con il leader del centrodestra di governo, Matteo Salvini, Antonio Tajani, Maurizio Lupi, Marco Marin e Lorenzo Cesa. E' stato un incontro positivo, i tecnici si siederanno al tavolo per sistemare delle proposte. Ci rivedremo dopo Pasqua e pensiamo che si possa chiudere positivamente, ha detto il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani. Soddisfatto anche Matteo Salvini, c'è un'ampia disponibilità di Draghi a risolvere i problemi. Occorre tagliare le tasse. Spero che PD e Movimento 5 Stelle la smettano con le provocazioni.